Alex, commento come sta andando? Stanno votando, io ho finito di consegnare i moduli qui dall'ufficio di segreteria di presidenza, bene, bene, adesso speriamo nel risultato, certo sarebbe piaciuto avere più candidati segretari, candidature alternative, vediamo, vediamo, io sono un po' stanco, magari mi vedi un po' giù, però questa è la mia prima esperienza, il primo congresso radicale dal vivo, perché l'ho sempre seguito negli ultimi 4-5 anni, però in rete, online, mai qui a Chianciano o a Roma. Adesso aspettiamo il risultato, ho visto un po' di cose che mi hanno lasciato un po' perplesso, il fatto che persone non sapevano manco le regole, come votare e come non votare, e guarda caso erano persone che avevano ben benino, nome già, no? Se io so chi votare, quando vado a votare anche per l'amministratore di condominio e quindi il presidente, la carica di portavoce, quello che è, già so in mente, perché se ho scelto quelli per chi l'ho scelto in base, se ho una lista perché qualcuno quella lista me l'ha data, generalmente è così. Va bene, vedremo, ciao. Grazie.